Bene amici sono un filo emozionato perché ho in mano uno dei pochissimi prototipi di Mate X presenti nel mondo e se lo guardiamo così potrebbe sembrare un telefono normale ma in realtà se ve lo giro c'è qua un pulsantino tra l'altro vedete si switcha automaticamente il display e con il pulsantino se schiacciato si apre a libro perché il Mate X è il primo foldable di Huawei non starò qua a dirvi tutte le specifiche tecniche le abbiamo già viste nell'anteprima vi dirò le impressioni di uso prima di tutto questa sorta di rigonfiamento che c'è da questa parte fa sì che lo si tenga veramente bene in mano tipo libro vedete qua sotto la porta USB di tipo C ha una carica velocissima 55 watt che caricano l'80% della batteria praticamente in 25 minuti ma andiamo alle cose interessanti meccanismo di apertura e di chiusura veramente veramente interessante ben ingegnerizzato se c'è il pulsantino per aprirlo per chiuderlo basta tirare vedete con le dita in questo modo e così 195 grammi sì devo dire un po' si sentono ma diventa comunque utilizzabile 6,2 pollici da questa parte ci sono anche le tre fotocamere quindi per farsi un selfie dobbiamo utilizzare questa diciamo questa parte del telefono ma ovviamente se lo giriamo automaticamente da selfie passiamo a macchina fotografica standard perché si attiva vedete l'altro display ovviamente il processore è un Kirin 980 comodo secondo me il sensore di impronta digitale messo qua perché quando prendiamo il telefono facciamo così lo accendiamo lo sblocchiamo automaticamente e ovviamente ci sono le gesture della Emotion UI riapro sempre con un po' di delicatezza perché ripeto è un prototipo vi parlo del display aperto è veramente molto molto bello 8 pollici molto luminoso molto definito l'unica cosa essendo un plastic OLED non c'è il vetro sopra e quindi da un po' effetto onda c'è da dire che ripeto questi sono prototipi quindi bisogna vedere nella versione di serie se questa cosa potrà essere minimizzata ma adesso vi faccio vedere un pochino come funziona apro per esempio YouTube e questo fatto di avere un display sostanzialmente quadrato magari non aiuta per quanto riguarda i video però aiuta per quanto riguarda il multitasking infatti se io utilizzo tre dita e faccio uno swipe su con tre dita vedete che mi si apre una seconda schermata dove io posso aprire quello che voglio dalla galleria per vedere le fotografie intanto di qua continuo a vedere il filmato tra l'altro vediamo se metto in orizzontale se si mette in orizzontale ma in realtà essendo quasi quadrato in effetti non cambia nulla ma torniamo indietro possiamo ovviamente allargare e restringere la seconda finestra facendo questo movimento e vi parlo un attimino dell'hardware non so se si può fare ma finché non mi cazzano io ci provo andiamo a vedere le specifiche vi faccio vedere qua le informazioni del sistema ovviamente Emotion UI 9.1 Android in versione 9 il software non è ancora quello definitivo quindi probabilmente verranno implementate non solo delle nuove gesture ma anche dei nuovi modi per interagire con un'interfaccia che è così particolare è 5G o meglio sarà 5G quando verrà attivato anche qua in Italia e cosa dirvi a me scimmia tantissimo è veramente molto bello da vedere da toccare sì è una nuova era bisogna capire se questa nuova era avrà un senso o meno l'unica cosa che forse mi lascia un po' così che quando è aperto se io voglio fare una videochiamata una foto non la posso fare perché ovviamente le camere sono dietro quindi videochiamate solamente a foldable chiuso direi che questa breve anteprima si chiude qua anche perché sì mi stanno guardando un po' male visto che ci sono tantissimi giornalisti che poi dopo di me lo devono provare e vi ricordo dovrebbe arrivare dopo l'estate a un prezzo previsto di 2300 euro quindi sicuramente non un telefono popolare ma come tutte le volte che c'è un cambio di tecnologie nuovi form factor nuove sperimentazioni e beh i primi sono sempre molto cari poi probabilmente caleranno di prezzo però mi piace non vedo di provarlo poi sulla reale utilità non lo so però anche perché ho provato a chiedere qua al product manager le cover come funzionassero ha detto che le stanno ancora ingegnerizzando perché avendo un display così la cover non può essere che un bumperino come funzionerà non lo so lo vedremo ciao